L'edio è un materiale strutturale che ha requisiti importantissimi di ecosostenibilità, di alte prestazioni strutturali e che viene sempre maggiormente utilizzato in sostituzione di materiali tradizionali come il calcestruzzo e la muratura. Consente un ottimo comportamento dal punto di vista sismico, è sempre maggiormente disponibile sul mercato e quindi sempre a minori costi, ha degli ottimi performance anche dal punto di vista del comfort, quindi non solo strutturale e questo rappresenta una delle potenzialità che questo materiale potrà avere nel futuro. È ragione da pensare che si costruirà sempre di più in legno in futuro e quindi è bene che gli ingegneri si attrezzino a questo tipo di strutture. Costruzioni in legno che quindi non sono più vincolate al territorio perché quando si pensa al legno di solito si pensa alle case di montagna. Sì esattamente, dicevo prima il legno è sempre più disponibile sul mercato, ha prezzi sempre più competitivi e quindi anche le nostre zone, anche qui nelle Marche si incominciano a vedere le prime case in legno e ragionevolmente ne vedremo delle altre in un breve futuro.